Un cordiale saluto e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il Tg Abruzzo. Partiamo dall'ultimo viaggio di Matteo Messina Denaro dopo l'autopsia espletata ieri che ha confermato la morte per cause naturali. Il carro funebre è partito dall'Aquila ed è giunto all'alba a Castelvetrano dove il boss è stato sepolto. Il servizio di Rossella Luciani. È partita dall'Abruzzo ed è arrivata poco dopo l'alba al cimitero di Castelvetrano la salma di Matteo Messina Denaro, morto lunedì notte nell'ospedale dell'Aquila. Ammalato di cancro al pancreas dal 2020, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi mesi dopo la cattura avvenuta a gennaio proprio all'interno di una clinica siciliana dove si recava per le terapie. Nel suo testamento biologico aveva scritto di non volere accanimento terapeutico e alimentazione forzata. Venerdì era entrato in coma irreversibile e da lì non gli era più stato somministrato del cibo. Il ferretro in una cassa in cedro scelta dalla nipote, legale Lorenza Guttaduro, unica della famiglia a vedere il capo mafia dopo il decesso, ha lasciato un osocomio abruzzese nella serata di martedì al termine dell'autopsia disposta in accordo dalla procura di Palermo e da quella dell'Aquila. L'esame eseguito dal medico legale di Chieti, Cristian Dovidio, ha confermato il decesso per cause naturali. Poco dopo sono arrivati in nulla osta la sepoltura e il dissequestro della salma e la bara è stata caricata su un carro funebre venuto da Castelvetrano. Un lungo viaggio, l'ultimo del boss scortato fino al cimitero del paese di cui la famiglia originaria. La questura di Trapani, che ha vietato i funerali pubblici, ha dettato regole stringenti sulla cerimonia. In un camposanto blindato da ore, come mostrano le immagini di Palermo Today, pochi familiari hanno assistito alla tumulazione. C'erano le sorelle Giovanna e Bice vestite a lutto, il fratello Giovanni, che indossava una mascherina e teneva in mano un mazzo di margherite gialle. Poi la nipote avvocato e la figlia da poco riconosciuta, Lorenza. Nessun funerale religioso, la chiesa li vieta per i mafiosi, una posizione ribadita con nettezza dal vescovo di Mazzara del Vallo, Giordanella. Ma in un vecchio pizzino anche il capo mafia aveva espressamente rifiutato le sequie cattoliche. E così davanti a pochi familiari, dato che la mamma è malata e molti come le sorelle Patrizia e Rosalia, tre cognati e il nipote prediletto Francesco Guttaduro sono in carcere, è calato il sipario sulla vita dell'ultimo grande latitante di Cosa Nostra. E siamo nel Terramano e ancora caccia all'uomo. Parliamo della fuga del detenuto albanese fuggito dal penitenziario di Castrogno. La procura teramana ha aperto due fascicoli, ma ci dice di più Rossella Luciani. Mentre in tutto l'Abruzzo e le regioni limitrofe ancora caccia all'uomo, la procura di Teramo ha aperto due distinti fascicoli per evasione e concorso in evasione dopo la roccambolesca fuga di Doja Roland, il 39enne albanese che era detenuto nel carcere di Castrogno a Teramo. Si indaga soprattutto sull'eventuale uso di un drone tramite il quale sarebbe stato recapitato all'albanese il materiale utile per mettere in atto il suo piano. L'uomo, approfittando di alcuni lavori in corso, sarebbe fuggito utilizzando una funeda alpinista lunga 50 metri e passando per un foro praticato tra le sbarre non più grande di 30 centimetri. Poi ha scavalcato in diagonale anche due muri di cinta prima di terminare la sua corsa fuori dal perimetro del carcere, da dove, fanno sapere fonti interne, non era mai evaso nessuno. Il precedente episodio risale infatti agli anni 90, ma era durante un trasferimento. Mentre è scattata anche l'indagine interna da parte della Polizia Penitenziaria, sono allo studio tutti filmati limitrofi al carcere per capire se il detenuto abbia avuto l'aiuto di complici e si sia servito di automobili per la fuga. Intanto le ricerche di Doja continuano su tutta la costa adriatica con particolare attenzione nelle zone portuali. Il 39enne, arrestato nel giugno scorso a Martinsicuro, era in carcere in attesa di processo a Bologna per droga e rapina. Nonostante ciò viene descritto come un tipo tranquillo e riservato che non aveva dato fili particolari problemi. La sua foto segnaletica è stata diffusa per aiutare le ricerche. Chiunque lo ha visti è pregato dunque di chiamare immediatamente le forze dell'ordine. E veniamo alla politica con l'attacco dei due consiglieri regionali pentastellati, taglieri smargiassi, dopo la quinta commissione che di fatto è saltata sul tavolo. Anche la risoluzione relativa ai cattivi odori nel Vastese a Punta Derci. Sentiamo. Non esiste più una maggioranza in Regione Abruzzo e oggi all'interno della quinta commissione è stato dimostrato. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega sono in completa antitesi e su una risoluzione del consigliere Cipolletti che va avanti dal 23 marzo, oggi manca il numero. Si leguano quelli che sono i colleghi, non danno forse appoggio a quella che è la risoluzione. La risoluzione dal nostro punto di vista che trovava spazio come misura di sorveglianza di un fenomeno importante all'interno di Regione Abruzzo, così come è narrato dal collega Cipolletti, ma c'è stata una divisione netta, una divisione che ha messo in evidenza quelle che sono le criticità di questa maggioranza. Duro attacco del Movimento 5 Stelle alla Giunta Marsilio dopo la quinta commissione salute che aveva all'ordine del giorno anche documenti sulla tutela ambientale del territorio. La risoluzione dei pentastellati non è stata approvata, da qui il jacuzzi dei consiglieri che erano intenzionati dopo 30 anni, dicono di odori molesti, a risolvere la situazione nel Vastese, considerando che l'aria, oggetto di criticità, è a ridosso della riserva naturale di Punta Derci, luogo simbolo della costa Vastese e fiorall'occhiello di tutto l'Abruzzo. E' vergognoso, ma diciamocela così com'è, è vergognoso e scandaloso l'atteggiamento che ha la maggioranza, che abbandona un suo componente davanti a una risoluzione che tutto sommato poteva essere votata anche da parte dell'opposizione. Ciò che dà più rabbia invece è il fatto che a seguito di quella risoluzione ce n'era un'altra, ben più importante evidentemente, almeno dal mio punto di vista, che era quella che chiedeva il monitoraggio dell'aria in una zona industriale che è quella di Punta Penna, a ridosso di una riserva naturale che è quella di Punta Derci, c'era già il parere favorevole del governo e della maggioranza e delle opposizioni per dare via seriamente al monitoraggio di quell'aria, per verificare se ci sono delle emissioni nocive per la popolazione. Davanti al voto non abbiamo più nessuno in aula, rimaniamo soltanto noi. Non solo T-Alert, i Vigili del Fuoco hanno organizzato una tre giorni di esercitazioni per gestire al meglio le possibili emergenze. Vediamo. Con l'autunno e le prime piogge si pensa a come gestire eventuali emergenze legate ad ingenti precipitazioni che possono provocare alluvioni e dissesto idrogeologico, ma anche come fronteggiare situazioni di potenziale pericolo. Da lunedì è partita l'esercitazione regionale e interregionale per l'attuazione dei piani di colonna mobile organizzata dalla direzione regionale dal Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo scenario emergenziale ipotizzato è quello di un alluvione che coinvolge il territorio terramano, con conseguenze più accentuate nel comune di Pineto. In particolare sono previsti eventi eccezionali come una frana nei pressi della frazione di Mutignano con il danneggiamento di alcuni edifici, il crollo di un edificio di abitazione nella zona artigianale di Borgo Santa Maria e la ricerca di un disperso lungo la foce del fiume Vomano a confine con il comune di Roseto. Nello specifico, un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara ha effettuato un sorvolo per definire l'area interessata dall'evento ipotizzato. Successivamente, alcuni funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco hanno verificato le condizioni di stabilità di tre edifici danneggiati da una frana. Nel contempo, personale dei pompieri specializzati per operare in ambiente acquatico ha effettuato la ricerca di una persona dispersa nel tratto di foce del fiume Vomano, impiegando anche un gommone. Infine, in un sito realizzato nella zona artigianale di Borgo Santa Maria, il personale Urban Search and Rescue dei Vigili del Fuoco di Abruzzo, Marche ed Umbria ha effettuato la ricerca di una persona coinvolta nel crollo di un fabbricato. Nell'ambito dell'esercitazione è stato istituito un campo base composto di comando avanzato in un'area comunale nei pressi di Pineto. Nel corso della mattinata, il prefetto di Teramo Fabrizio Stello, il sindaco di Pineto Robert Berrocchio, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Gennaro Tornatore e comandanti dei Vigili del Fuoco di Teramo e delle altre province abruzzesi hanno incontrato il personale operativo dei pompieri volontari di protezione civile impegnati nell'esercitazione. Questa proseguirà fino al 28 settembre per garantire il coinvolgimento di un ampio contingente di personale operativo. E siamo sulla sanità, l'ospedale Mazzini di Teramo è tra i primi nosocomi al mondo ad utilizzare Scopio Labs, ovvero l'intelligenza artificiale per esaminare le cellule del sangue. Rossella Luciani. Una tecnologia all'avanguardia per i laboratori dell'unità ospedaliera complessa di patologia clinica ed ematologia dell'asla di Teramo. Si chiama Scopio Labs e consentirà ai laboratori di analisi di esaminare con l'intelligenza artificiale i campioni di cellule del sangue invece che manualmente al microscopio. Il direttore generale Maurizio Di Giosia spiega che il laboratorio dell'ospedale Teramano è stato scelto per la prima installazione a livello mondiale, grazie all'elevata professionalità nell'interpretazione dei dati derivati dall'emocromo e nella morfologia ematologica del direttore dell'unità operativa complessa Sofia Chiatamone Ranieri. Quest'ultima e la sua KIP, costituita da Vincenzo De Iulis, responsabile del settore di ematologia e tecnici di laboratorio Marcello Cirilli e Mario Forcella, lavoreranno e testeranno l'integrazione delle nuove tecnologie oltre a quelle tradizionali effettuate al microscopio ottico. Il tutto fino a dicembre, quando si stima che verranno valutati circa mille test. Tutto ciò rappresenta un passo in avanti nella fornitura di soluzioni automatizzate e digitalizzate, poiché si ridefiniscono i flussi di lavoro nel settore dell'ematologia. Questa tecnologia, basata sull'intelligenza artificiale, fornisce immagini dell'intero campo microscopico e permette di ottenere sia un quadro clinico generale del paziente, sia piccoli dettagli delle singole cellule. Ma soprattutto contribuirà ad accelerare le performance in termini di efficienza ed efficacia diagnostica al servizio dei colleghi clinici, con l'obiettivo ultimo di migliorare le loro decisioni per la cura ottimale del paziente. I medici dell'ospedale Mazzini sono stati supportati da una delegazione dell'azienda produttrice, che ha svolto alcuni giorni di formazione clinica e tecnica. L'economia abruzzese banta un primato nel settore dell'agricoltura, oltre 15.000 le donne impiegate. Sentiamo. In Abruzzo le imprese agricole guidate da donne sono 15.545, pari al 35%, quasi 4 punti percentuali sopra la media nazionale, che si ferma al 31,5%. Un dato che fa dell'Abruzzo la quinta regione in Italia per incidenza di donne in agricoltura. È stata l'analisi di Abruzzo-Penopolis a realizzare il censimento per il settore, dati significativi anche in vista della giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di riconoscere il ruolo cruciale svolto dalle donne nel garantire la sostenibilità delle famiglie e delle comunità rurali. Le donne contribuiscono in modo significativo alla produzione agricola, alla sicurezza alimentare, alla gestione del territorio e delle risorse naturali. Hanno svolto sempre un ruolo centrale in questo settore. È fondamentale riconoscere il loro impegno e promuovere l'uguaglianza di genere nel settore. Lo dichiara la Presidente dell'Associazione Donne in Campo C. Abruzzo, Anna Maria D'Alonso. Per quanto riguarda i giovani under 45, invece, nel 2020 erano in tutto 4.583 le imprese registrate in regione, pari al 10,3% del totale. A differenza dell'imprenditoria femminile, in questo caso siamo di fronte a un dato inferiore rispetto alla media del Paese. E questo era il nostro ultimo servizio. Si ferma qui il Tg Abruzzo. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.